Ciao, ciao a tutti, bentornati e benvenuti sul mio canale. Spero stiate bene, qui da noi a Lecco è scoppiata non la primavera ma l'estate, ci saranno almeno 26-27 gradi fuori fa caldissimo, è quel momento della stagione in cui stai meglio in casa al fresco che fuori, ma va bene così, è arrivato il caldo e benvenga. Ora, oggi volevo farvi un video sui regali che ho ricevuto per la festa della mamma, premetto che io mi faccio sempre un regalo, sia per la festa della mamma che per il mio compleanno, mi faccio il regalo da sola, benissimo. Per la festa della mamma, allora, da Mattia ho ricevuto gli auguri penso alla sera perché si è ricordato, però va bene, aveva appena cominciato a lavorare, quindi va bene, ci sta. Pietro mi ha telefonato ed è stato un regalo meraviglioso perché al telefono sentivo le campanelle delle sue pecore e mi sembrava di essere al telefono con Peter di Heidi, avete in mente quel suono della campagna? Vabbè, loro ovviamente non mi hanno fatto nessun regalo, Paolo mi ha regalato tre rose che sono il simbolo dei nostri tre figli e Lucia, che è una femmina e che sa tutta questa mia passione, mi ha fatto un regalo bellissimo. Adesso ve lo faccio vedere. Mi ha regalato la crema viso Biolis Nature Green Selection Melagrana, crema viso antiossidante e idratante 98% di ingredienti naturali. Io questa non l'ho ancora aperta perché ho due creme che sto terminando e sapete che non comincio mai più di due prodotti alla volta della stessa, come si dice, referenza, nel senso due creme, due tonici e quindi il colorino è un rosina che penso sia proprio dato dalla melagrana e non vedo l'ora di iniziare ad usarla. E poi, sempre la mia Lucy, mi ha regalato, come potevano mancare, tre maschere. Questa maschera è di Garnier Skin Active Vitamina C, che vabbè queste sono quasi le mie preferite. Questa Idrabomba che è buonissima, ne ho già provate altre due altre volte. E questa che invece non coloro... Ah, bubble mask, ragazzi, sono quelle che fanno tutte quelle robe carine che divento un panda ogni volta che le faccio. Mi piacciono. Benissimo, questa la proverò quanto prima. Sarà sicuramente la prima che provo. Lei era tutta gasata che io facessi vedere i suoi regali sul canale YouTube. Non so quando poi pubblicherò questo video perché il mio modem è kaput e io non sono capace di pubblicare i video dal telefono, anche perché sto girando con la telecamera e quindi domani mattina arriva il tecnico e vedremo. Però avevo voglia proprio di aprire con voi il mio pacchetto speciale e poi quanto prima riuscirò a riuscirò a caricarlo. La conoscete? Lab Care Cosmetics. Ho sentito parlare tantissimo di questa azienda, soprattutto ultimamente. Ne ho sentito parlare da un po' di tempo da Giulia Cova, che seguo perché mi piace molto, è una ragazza competente che dà dei consigli sempre molto validi. E proprio in un suo video, sono incappata in questo video dove lei parlava di Lab Care perché era un video dove collaborava e proponeva uno sconto molto molto interessante ed era penso 3-4 giorni prima della festa della mamma. E siccome volevo provare questi prodotti, perché li avevo visti in alcune farmacie e ne ho sentito parlare davvero tanto, tanto, ma tanto bene, tanto, tanto bene, ho detto vabbè, è un'azienda italiana che fa dei prodotti ottimi, tutta green, proviamola. Mi è arrivato questo bellissimo pacchetto, adesso ve lo faccio vedere, e dopo guardiamo all'interno che cosa c'è, accompagnato da una lettera che, ragazzi è profumata, è una meraviglia, ed è la lettera dove Giovanni Remonato, che è il proprietario di questa azienda, insieme ai figli, scrive un po' la sua storia. Adesso io non vi leggerò tutta la storia, tutto il crescere di questa azienda, è una start-up che è iniziata alla fine degli anni 70, lui racconta, e ci racconta un po' in questa lettera, ma poi vi lascerò tutte le info nell'info box, perché è quasi una favola, no, è la storia di un ragazzo che ha un sogno e che alla fine, dopo averci lavorato parecchio, ma proprio parecchio, dopo essersi buttato, riesce a realizzare il suo sogno, partendo prima da un piccolo laboratorio, poi l'erboristeria, poi vende tutto, e poi sente l'esigenza comunque di avere qualcosa di suo e ricostruisce appunto LabCare, che adesso è gestita da lui e dai suoi due figli. Detta così, è molto veloce, però vi dico che la presentazione che c'è, sia su questa lettera che sul loro sito, è davvero molto molto affascinante e sembra proprio una favola a lieto fine, quindi davvero vi consiglio di andare a scoprire questa bellissima azienda. È un'azienda genovese che ha adesso diversi agenti che vendono in tutta Italia nelle farmacie e i laboratori, cioè nelle farmacie i loro prodotti, ed io ho pensato di provarla. Allora c'era, veramente ho avuto la fortuna di poter utilizzare questo sconto di Giulia Cova, dove praticamente con 50 euro e poco più ho portato a casa tutti questi prodotti. e quindi sono ben felice. Ora io vi farò vedere soltanto le confezioni perché non voglio al momento aprirli per non rovinare il pao, ma poi chiaramente comincerò ad usarli. Allora, per prima co... Ah! Santa Vergine, ho dimenticato una cosa. Fermo e vado a riprendere il tutto. Aspettatemi. Eccomi, ho fatto le scale di corsa. Allora, io ero partita perché volevo prendere questo kit che era fortemente scontato. Bellissima la confezione, che poi sicuramente terrò perché mi piace davvero tantissimo. E in questo kit ci sono compresi due prodotti. Uno è il sieroviso anti-age concentrato filler botox booster, stirante anti-rilassamento per rughe marcate. Allora, io di rughe marcate fortunatamente non ne ho un bacino bello cicciottino, e quindi per il momento le rughe non ci sono. Però, ho detto perché no, proviamoli, magari lo tengo lì per un po' fino a quando non mi arrivano le rughe marcate. No, sto scherzando. Comunque, niente, volevo prendere questo kit che mi piaceva e quindi anche se non ho le rughe marcate, va bene anche per le rughe piccole che ho, insomma. Contiene acido ialuronico, alto peso molecolare, argirelina botox-like, fermentato da estratto marino, glico biopolimero dell'alga rossa, nickel testato, dermatologicamente testato. Sono prodotti tutti buonissimi. Ora apriamo insieme perché io veramente, sapete che non li ho ancora aperti perché volevo aprirli con voi. e questo, vetro scuro, vetro, molto molto carino. E questo era compreso nel kit per la testa della mamma. Richiudiamo. E poi c'era Ice Area Cream Yaluronic Acid Complex 5, perché vado pure a leggere l'inglese quando ho la traduzione in italiano. Va bene, crema contornocchi, acido ialuronico complex, 5 pesi molecolari, bassissimo, basso, medio, alto e molto alto. Idratante, liftante e rimpolpante. In questo periodo sono in fissa, in fissa con il contornocchi, ma dei contornocchi che siano abbastanza, insomma, buoni. E poi vi farò vedere in un altro spacchettamento il regalo che mi sono fatto in anticipo di compleanno dalla mia mamma. Cioè gli ho detto, mamma va bene se mi compro io il regalo di compleanno, va bene. E nulla. E questo è il contornocchi. Allora, innovativa formula delicata di contornocchi, arricchita da uno straordinario complesso multimolecolare con acido ialuronico di 5 pesi molecolari. L'uso quotidiano assicura un'azione anti-age che coinvolge tutte le problematiche estetiche della delicata zona peroculare. Ecco, sono molto curiosa. Devo dire che le recensioni che ho visto fino adesso sono da 10 elode. E sicuramente lo saranno anche le mie dopo averle provate. Poi in questa bellissima scatolina c'è anche dentro una cartolina che poi io terrò come il segnalibro. Io adoro queste cartolinette, ma guardate che meraviglia. Mi piacciono tantissimo. Veramente stupendo, stupendo il cofanetto. E davvero con gli sconti che c'erano era impossibile lasciarli lì. Veramente. Sapendo poi di aver comprato dei prodotti di altissima qualità. E questo era il cofanetto della festa della mamma. Poi, aggiungendo tutto il resto, devo dire che ho speso praticamente come quasi due cofanetti neanche. Allora, innanzitutto vi faccio vedere la confezione perché è meravigliosa. Tutta sberluccicosa, rosa, come piace a me. E questo è Unicorn sublimatore di bellezza, viso anti-age, idratante, rimpolpante. È un cosmetico rivoluzionario. È formulato con preziosi principi attivi naturali che rendono la pelle del viso più tonica e compatta. Svolge una mirata azione anti-age, idratante, rigenerante e antifatica, minimizzando le imperfezioni, rimpolpando l'epidermide, preparandola all'applicazione del make-up. Cioè, mi piace tantissimo. Adesso vi faccio vedere. È di un colore meraviglioso. Cioè, guardate che bello. È spettacolare. Bello, 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 bello. Bravi, bravi, bravi l'Upcare. E questo è il secondo prodotto. Poi. Super Sierra Unviso, definitivo. Rinnovatore cellulare anti-age, 24 ore, stirante, sempre tutto stirante. Riempitivo e levigante. Ah, questo è diviso in due parti. Come se fosse un bifasico. Ah, sì. Uh, guardate che bello. No, ma che colori. Poi, io che amo i colori, amo tutta questa... Quindi si agita. Fantastico, no ragazzi? Cioè, anche da avere sulla mensolina del bagno. Sono elegantissimi. Belli. Veramente belli. E vediamo che cosa fa questo. Allora. Straordinario Super Sierra Unviso che combina due mirate formulazioni anti-age. La parte superiore è una miscela di preziosissimi oli vegetali che nutrono la pelle, contrastando i seni d'espressione. La parte inferiore è un mix di principi attivi naturali che levigano la pelle, idratandola, promuovendo da subito il naturale rinnovamento cellulare. Linee sottili, rughe e incarnato spento saranno attenuati. Contiene, nella parte superiore, olio di chia, olio di inca, inchi, che non so che cosa sia e non so se si pronunci così. Olio di pistacchio, olio di melograno, olio di nocciola e olio di argan. Wow, che meraviglia. E poi, nella parte inferiore, acido ialuronico di trepesi molecolari e acido glicolico. Fantastico. Mamma mia, che meraviglia. Poi, beh, non potevo lasciarlo lì, scusatemi. Cioè, adesso che sono in fissa con tutti i prodotti alla vitamina C, se avete visto la foto che ho messo su Instagram con tutti quei prodotti alla vitamina C, che ragazzi, li sto provando, sono una bomba, una bomba, una bomba, una meraviglia. E beh, non potevo mica lasciarlo lì. E quindi, super vitamin C, vitamini, sì, super vitamini, che però potrebbero essere super vitamini C, uguali. Siero viso concentrato alla vitamina C, C complex, al 56%, antiossidante, idratante e levigante. Grazie al complesso di principi attivi vegetali, che contengono un'alta percentuale, il 56% di vitamina C, questo straordinario siero anti-age per il viso contrasta da subito la perdita di elasticità, lasciando la pelle del viso più tonica e levigata. Un vero concentrato di vitalità che stimola il rinnovamento cellulare, contrastando le rughe ed uniformando la trama dell'epidermide. Ragazzi, con black hair, qui, divento top. Bello. Poi, anche qua, ve lo faccio, sì, l'ho fatto vedere, sì, sì. Concentrato occhi anti-age nero, concentrato trattamento intensivo rinnovatore di giovinezza, effetto tensore levigante e idratante. Vediamo, eh. Innovativa formula che ristruttura, ricompatta, levica la fragilissima zona perioculare. Arricchita di preziosi estratti naturali, minimizza i segni della stanchezza, rinforza i tessuti, regalando tono, elasticità e rinnovata giovinezza. Delicato e di immediato assorbimento, questo contorno occhi garantisce freschezza e luminosità allo sguardo. Contiene estratti di tara, liquirizia, di cui ho sentito che fa veramente miracoli, mirtillo mora, alga rossa, acido ialuronico e malto destrine. Curiosa, molto, molto curiosa. Mi stanno crescendo i capelli, ragazzi, e mi danno un fastidio e voglio farli crescere, quindi... Oh, ma è proprio nero. Mmm, ma sono bellissimi i packaging. Cioè, veramente... Chapeau. Belli, belli, belli. Veramente belli. Affascinanti, fatti bene. Molto eleganti. E poi, infine, io che sono un amante delle schiume, detergenti, queste cose, ho detto, vabbè, proviamola. Poi, con questo pack, scusate, ma... Rosa con le nuvolette. Nuvola, mousse, detergente e visocchi, delicata, morbida e leggera. Dedicata a tutti i tipi di pelle, nuvola, è una mousse detergente molto delicata, morbida e leggera, con proprietà idratanti e lenitive. È una vera e propria coccola che renderà piacevole il gesto della detersione, regalandoti una pelle perfetta e luminosa, rigenerata e tonica. Proveremo, proveremo. Devo anche dire, e sapete, qua esulo un po' dalla cosmesi, ma devo anche dire che i caratteri che sono usati per definire questi prodotti sono caratteri molto semplici e quindi adatti. Sapete che io sono la mamma di due ragazzi di S.A., dislessici, discalculici e disgrafici. E a volte mi rendo conto che è molto difficoltoso leggere le etichette perché ci sono dei caratteri che sono cirillici. Cirillici? Cirilli? Sì, cirillici. Avevo già fatto questo discorso quando avevo fatto un video con Mattia sulla maglia, però davvero l'attenzione secondo me è di trovare dei caratteri semplici, dei caratteri che sono visivamente immediati anche per chi ha queste difficoltà e credetemi ci sono davvero tantissimi ragazzi che hanno queste difficoltà è sicuramente un aiuto in più per poter comprendere al meglio in maniera veloce quello che è scritto. Quindi, secondo me, anche questa cosa è da apprezzare. Poi, ma quanto sono belle? Cioè, ma è bellissimo. Pink oil multifunzione, struccante, detergente e nutriente. Strucca perfettamente, deterge delicatamente, nutre profondamente. Per struccare perfettamente sulla pelle asciutta del viso, vabbè non mi interessa come farlo perché tanto lo sappiamo fare, contiene olio di mandorle dolci, olio di crusca di riso e strato di boswellia. Boswellia? Bene, io sono curiosissima di provare questi meravigliosi prodotti, già mi piacciono così, ma sono sicura al 100 per 1000 che saranno veramente ottimi. Ebbene, questo è stato il mio autoregalo della festa della mamma. Ho ricevuto altri regali dalla mia Lucy e dai miei figli, ma il regalo più bello è dal giorno in cui sono diventata mamma a probabilmente, cioè non probabilmente, senza probabilmente, a quando morirò. Perché mamme si è per sempre, no? Anche quando i figli sono lontani, anche quando sono all'università, che tu non sai bene com'è la loro giornata e siccome sei abituata ad avere sempre tutto sotto controllo, non sai bene che cosa sta facendo, se sta pascolando le pecore, se sta tagliando l'erba, se sta piantando le patate, se sta studiando soprattutto. Adesso che Mattia sta lavorando e praticamente sta facendo il cameriere, quindi è un lavoro davvero molto, molto, molto faticoso, perché purtroppo per quello che ha studiato non è riuscito a trovare nulla. Chiedono esperienza, ma di esperienza non gliela fa fare nessuno, quindi dite in ascolto. Se voi chiedete l'esperienza, ma poi ai ragazzi giovani non gliela fate fare, questi ragazzi l'esperienza non l'avranno mai. Lui è contentissimo, gli piace. Oggi ha superato l'esame della patente e anche qua ritorno al discorso di prima. Per i ragazzi di S.A. non è così facile. Non è così facile superare gli esami della patente, si confondono con la destra e con la sinistra, hanno bisogno di una concentrazione che è 10 volte maggiore di chi non ha questo tipo di difficoltà. Lui è rimasto bocciato per due guide, questa mattina ce l'ha fatta e siamo contentissimi. Sono tutti dei successi che tutti raggiungono, tutti raggiungono assolutamente, ma con un impegno e con una costanza, con una caparbietà sicuramente superiore di chi non ha queste difficoltà. E quindi io sono veramente orgogliosa di tutti i miei figli. E penso che il regalo più bello sia proprio la loro presenza giornaliera nella mia vita, di quando mi confidano le cose belle, di quando senza vergogna purtroppo mi confidano che hanno fatto delle cagate, e per fortuna che me lo dicono, di quando ridiamo insieme e che facciamo delle stupidate, di quando balliamo, di quando cantiamo, di quando sono arrabbiata e mi chiedo scusa, e di quando chiedo scusa io, perché nessuno nasce perfetto, neanche una mamma. E quindi mi è capitato, mi è capitato tante volte di dover chiedere scusa a fatica, ma avevo sbagliato io. E nulla, quindi tutti questi regali sono belli, io sono contenta che ho avuto la possibilità di farmi questo mio regalo, però penso che è il regalo più bello per una mamma, qualsiasi tipo di mamma. Non vorrei dire una stupidata, ma comunque una mamma non è chi genera un bambino, ma chi ama un bambino, una persona. Quindi qualsiasi mamma, qualsiasi coppia di genitori, non per forza uomo e donna, che amano una persona, sono dei genitori che regalano amore, e che penso sia il dono più bello che una persona possa ricevere, indistintamente da chi lo riceve. E quindi nulla, adesso vado a sistemare tutte queste belle cosine, vi do appuntamento al prossimo video, spero di avervi fatto vedere delle cose stuzzicanti, e controllate se c'è ancora lo sconto valido, perché secondo me, se c'è ancora, vale la pena di provare questi prodotti ottimi di questa azienda italiana, made in Italy, e soprattutto un'azienda green. Io vi abbraccio, vi saluto, e vi auguro una buona giornata, speriamo che domani mattina il tecnico mi risolva tutto, e io riesca a caricare il mio video. Bene, un abbraccio, e grazie ancora per essere arrivati fino a qua. Ciao!